Musica Virus e batteri lasciano segnali elettromagnetici nell'acqua, che ha una memoria. Ora a dirlo è il Novel Montagné. Ha una memoria, lo disse una volta l'immunologo francese Jacques Benveniste, fornendo in qualche modo un fondamento scientifico per l'omeopatia. Scoppiò un caso internazionale, oltre 20 anni fa i suoi studi vennero demoliti. Ora a dirlo è addirittura Luc Montagné, Novel per la medicina, per le sue ricerche sul virus dell'AIDS. Montagné afferma che il mondo è fatto non solo di materia ma anche di onde. E sono queste a rimanere nell'acqua, anche quando sostanze o virus non ci sono più. L'acqua che forma oltre i tre quarti del nostro corpo conserva le tracce di molecole biologiche e del passaggio di virus di malattie croniche, come l'HIV, o di patologie legate all'Alzheimer, al Parkinson, alla poliartrite reumatoide. Sembra la frase di un omeopata. A sostenerlo è invece Luc Montagné, Novel per la medicina 2008, per i suoi studi sul virus dell'AIDS. Secondo lo scienziato il DNA dei virus, infatti, rilascerebbe nell'acqua nanostrutture, in grado, se eccitate, di emettere onde elettromagnetiche. La presenza di agenti patogeni potrebbe così essere letta e rilevata in anticipo. La medicina occidentale ha fatto enormi progressi nella lotta contro le malattie infettive acute. Per quanto riguarda le malattie croniche, invece, abbiamo ancora molto da imparare. Basarsi su altri principi scientifici può aiutare, se non a curarle, a prevenirle con una diagnosi precoce. Prendiamo l'esempio delle grandi diluizioni. Secondo l'omeopatia, quando diluiamo molto una molecola, alla fine essa sparisce, ma mantiene la sua efficacia biologica. Molti sostengono che ciò non sia possibile, io invece credo di sì. Tutto questo accade perché l'acqua può mantenere le informazioni delle molecole biologiche, proprio quello che da tempo sostiene l'omeopatia. La capacità dell'acqua di ricordare e conservare tracce biologiche era stata già teorizzata negli anni Ottanta dal biomedico francese Jacques Bienveniste, che pubblicò le sue ricerche su Nature. Gli studi di Bienveniste furono poi sconfessati poco dopo dalla stessa Nature, che accusò lo studioso di aver falsificato i risultati. Bienveniste era un grande amico di Montagnier. In queste mie ricerche ho molti precursori, come il fisico Giuliano Preparata. Non l'ho mai incontrato personalmente, però so che è stato in relazione stretta con Jacques Bienveniste, che in Francia ha fatto conoscere le sue idee e mi ha fatto capire che quello che faceva non era per niente inventato, anzi mi permetteva di spiegare certi fenomeni in fronte ai quali mi imbattevo nel corso dei miei studi.